La crisi economico-sociale che affligge i territori del Sud Italia e la straordinaria opportunità offerta dai fondi extra-regionali. Questi gli argomenti al centro dell'incontro per il Presidente della Regione Nello Musumece ed il Ministro per la Coesione Territoriale del Mezzogiorno, Claudio De Vincenti. Nella sala Alessi di Palazzo d'Orlean si è riunito il comitato di pilotaggio per fare il punto sullo stato di attuazione degli interventi del Patto per la Sicilia. Abbiamo fatto il punto, afferma il Presidente Musumece, a tre mesi dal precedente incontro di Roma. Dall'analisi dei dati abbiamo preso atto dell'accelerazione della programmazione nei diversi dipartimenti coinvolti e per questo siamo fiduciosi che la Regione possa recuperare il pesante arretrato ereditato e raggiungere l'obiettivo fissato per il prossimo 31 dicembre. La task force, composta da rappresentanti del Ministero e del Governo regionale, istituita dopo l'incontro di febbraio, ha dato evidentemente i suoi frutti. La dotazione del Patto per la Sicilia è di 2,3 miliardi di euro e risultano già impegnate risorse per oltre 850 milioni di euro, pari al 37% del programma. Lo stato di attuazione vede interventi con progettazioni in corso pari a 1,29 miliardi di euro, in affidamento per 452 milioni, in programmazioni per 234 milioni, in avvio di progettazione per 202 milioni, in esecuzione per 142 milioni. 5 settori prioritari di intervento, turismo e cultura, pari a 216,5 milioni di euro, infrastrutture 607,9, sviluppo economico e attività produttive 208,5 milioni, ambiente 1,15 miliardi, sicurezza, legalità e vivibilità del territorio 113,1 milioni. Giudizio sostanzialmente positivo quello espresso al ministro De Vincenti. Abbiamo registrato un significativo aumento dei lavori in affidamento, ha sottolineato, siamo cioè all'anticamera dei cantieri.